www.fema.it Allora, Presidente, porterà tutti una sottotituzione, sul petto, se non vi ho, porterà i sentimenti. Allora, se a preveni, è arrivata la finezza, tutti gli associati mi sono a regla alzate. E questo vado proverso a me. Ecco, è il volato parello. Presidente, o ce l'ho, oppure la regola. Non è sta, non ha volato parello. Ma non vada di mai fare la finezza. Perché non fa, perché ti chiami, che ti chiami, perché ti chiami! Grazie a tutti.